Le assicurazioni sono per chi gioca sul sicuro? Noi in Allianz non siamo d'accordo. Da quando Allianz è nata, nel 1890, siamo sempre stati dalla parte di chi va oltre le frontiere, gli oceani, i continenti. Siamo con chissà che senza coraggio non esiste successo, né divertimento, né vita. Siamo a fianco di chi ha il coraggio di iniziare un'attività o di creare una nuova famiglia. Siamo con chissà crescere con la fatalità, con la sconfitta, ancora più che con il successo. Condividiamo i loro trionfi e i loro drammi. Perché siamo nati proprio per questo. Diamo protezione e sicurezza, perché la nostra azienda è solida, forte, è costruita per affrontare e superare le difficoltà. sappiamo cosa fare e indichiamo la direzione perché capiamo il mondo. Conosciamo le vite e i bisogni dei nostri clienti. Agiamo con integrità, parliamo sinceramente e manteniamo le promesse. Tutte le nostre azioni vogliono incoraggiarti a prendere in mano la tua vita. Vai avanti con coraggio. Noi siamo con te lucky, lucky, lucky me You can kiss your worries goodbye Your life's a chuckle and lay Benvenuti ad Allianz Specia Cucia, l'evento digitale che utilizza un particolare formato di presentazione giapponese. 20 immagini per 20 secondi scandiranno il racconto di architetti, docenti universitari ed esperti di trasformazione urbana. Come cambiano le città durante le Olimpiadi, i nuovi trend e l'impatto sul benessere delle persone, spunti di riflessione per un futuro sostenibile. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale YouTube Allianz Experience, dove potrete rivedere tutti i video realizzati da Allianz fino ad oggi e dove potete anche ritrovare questa puntata di Allianz Specia Cucia. Entriamo ora nel vivo presentando i 5 relatori d'eccezione che ci accompagneranno in questo incontro dedicato al rapporto tra sport, città e architettura. Tokyo, Rio, Londra, Pechino, Atene e Sydney, tutte città legate al tema delle Olimpiadi e al contesto dell'accoglienza di un evento internazionale. Queste saranno punto di riferimento e confronto che ritroveremo durante il Pecia Cucia. Ora partirei con le presentazioni partendo dalle presenze femminili e qui con noi Susanna Tradati, partner dello studio Nemesi, la curatrice d'arte Beatrice Bertini, Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista esperto e critico d'arte, il professor Pippo Ciorra, signor curator del Maxi ed esperto di trasformazione urbana e il prorettore del Politecnico di Milano, il professor Emilio Faroldi. Quindi avremo punti di vista diversi che in meno di sette minuti ci racconteranno attraverso competenze ed esperienze come si trasforma, si stimola e muta una città che accoglie un grande evento sportivo vedendo scenari e possibilità future in ottica sostenibile. Una volta terminate le presentazioni che saranno fra poco una dopo l'altra ci sarà un momento di condivisione, un momento la tavola rotonda dove si potrà interagire direttamente con i nostri protagonisti. Si potranno fare domande mandando un messaggio per iscritto o anche attraverso un messaggio vocale. Ora direi che non porto via altro tempo allo sforzo di sintesi dei nostri relatori partirei presentandovi il primo, il professore, signor curator del Maxi di Roma nonché architetto, il professor Pippo Ciorra. Le città e l'architettura conoscono da sempre la potenza e le potenzialità dei grandi eventi dalle macchine barocche, da storie antiche e passate ma è dalla metà dell'Ottocento con gli Expo e poi con le Olimpiadi che tutto questo è diventato un meccanismo controllato quindi è sempre una grande opportunità, il grande evento Milano lo conosce grazie all'Expo qui vediamo due storie, una bella e una brutta le Olimpiadi a Londra e quella dei mondiali di nuoto a Roma che hanno lasciato tracce difficili. La prima Olimpiade che raccontiamo è quella di Roma 1960 l'occasione per la ristrutturazione, per l'accompletamento della nuova città moderna la strada olimpica a Est, il palazzo dello sport a Leur e il nuovo, il completamento del quartiere dello sport col bellissimo villaggio olimpico di Moretti e Libera il palazzo dello sport e lo stadio Flaminio di Nervi in quello che poi diventerà il quartiere dell'auditorium e ora anche del nostro museo del Maxi. Roma quindi grandi concetti che vengono con le Olimpiadi è la prima volta che si usa l'archeologia la Basilica di Massenzio per le prove di ginnastica le grandi opere di Nervi, dei grandi architetti il tracciato infrastrutturale della via olimpica quindi un'occasione molto ben sfruttata forse è anche l'ultimo momento di grande trasformazione urbana che c'è stato a Roma Monaco invece nel 1972 è l'Olimpiade della grande ingegneria Fraiotto insieme all'architetto Gunther Benisch immagina e realizza un quartiere che usa materiali nuovi tecniche nuove, ingegnerie nuove per costruire tutto il parco delle Olimpiadi quindi lo stadio, il palazzetto e le altre strutture sono tutte coperte da questa coperta da questa superficie che sembra morbida ma che è di vetro ma che racconta forme morbide che è la firma, proprio il modo di lavorare specifico, tipico di Fraiotto quindi l'Olimpiade come un contributo straordinario in questo caso anche alla tecnica e ancora oggi studiamo e siamo molto interessati all'ascito di questi architetti che continuano e di questi ingegneri che continuano ad avere seguaci e imitatori dopo Monaco facciamo un salto temporale lievemente più lungo e siamo pronti ad andare a una grande Olimpiade dell'architettura cioè Barcellona se quella era l'Olimpiade dell'ingegneria Barcellona è dove tutti i grandi architetti sono coinvolti Isozaki, l'autore di questo edificio per esempio Eric Miralles, Norman Foster contribuiscono a ristrutturare una parte della città in particolare la vecchia collina del Montjuic che non era in belle condizioni prima dell'inizio delle Olimpiadi e che invece diventa un nuovo centro della città grazie alle nuove strutture infatti è interessante che solo tre anni dopo nel 1995 in questi spazi si svolge il più grande raduno mondiale degli architetti vicino al bellissimo pesce di Frangheri il ristorante a forma di pesce il grande raduno dell'Unione Internazionale degli Architetti si svolge non a caso in questa che diventa un elemento di rimbalzo fortissimo per gli architetti e per gli urbanisti anche perché Barcellona è un grande territorio urbanistico vediamo anche proprio come parti di città compresa Barcelloneta, la grande spiaggia e i vecchi quartieri industriali si trasformano grazie alla potenza d'impatto che hanno le Olimpiadi Barcellona è proprio segna il momento in cui l'architettura ha il massimo protagonismo nelle Olimpiadi Atene è una storia un po' più complessa ad Atene si progetta ci sono alcuni elementi molto interessanti per esempio c'è un grande coinvolgimento di Calatrava che è un architetto bravo e costoso un ingegnere bravo e molto costoso che progetta un nuovo treno che unisce le nuove strutture dell'aeroporto con la città progetta un grande quartiere un grande parco olimpico con degli stadi molto spettacolari molto eleganti e molto costosi non tutte queste opere sono sopravvissute diciamo nella maniera migliore possibile alle Olimpiadi anche perché subito dopo Atene forse anche per i costi eccessivi rispetto ai preventivi di queste Olimpiadi Atene non è riuscita poi sono entrata in crisi economica come conosciamo però anche qui le Olimpiadi hanno lasciato delle infrastrutture ancora molto importanti per il funzionamento e per il futuro della città e poi nella città dove le Olimpiadi ovviamente sono nate quindi è importante che ci siano tornate un'Olimpiada molto interessante è quella di Pechino Pechino è una città enorme ha 5 raccordi anulari uno dentro l'altro quindi ristrutturare la città grazie alle Olimpiadi non era facile allora hanno lavorato invece su dei grandi elementi molto visibili, molto importanti in particolare hanno coinvolto artisti e architetti importanti in quegli anni Pechino era molto al centro dell'interesse dell'Occidente questo è un incredibile, spettacolare stadio realizzato dallo studio Erzog and Emeron ma con una collaborazione molto forte di Ai Weiwei che voleva costruire questa cesta per la vita pubblica degli abitanti di Pechino e poi questo bellissimo centro acquatico dove c'erano tutte le piscine dove si svolgevano tutti gli sport acquatici realizzati da un gruppo di architetti che si chiamano PTW Architects in collaborazione con lo studio Arup che è sempre la macchina portante di quasi tutte le grandi architetture ingegneristiche dei nostri tempi Londra è una storia piuttosto virtuosa perché si decide di usare le Olimpiadi per riqualificare il West End di Londra gli stand, scusate, di Londra quindi si fa un pensiero interessante da un lato progettare un grande parco con le strutture olimpiche però progettare anche il futuro di queste strutture olimpiche molti di questi edifici erano fatti per essere alleggeriti, rimpiccioliti dopo le Olimpiadi per essere poi usati dalle comunità locali dalla città e poi funziona anche molto bene come diciamo Londra è una città che vive di rigenerazione urbana questo è stato un progetto qui vediamo un capolavoro della nostra architetta di casa cioè Zadid anche questa piscina per esempio diventò più piccola alla fine delle Olimpiadi quindi ecco sono quasi tutti gli esempi sono virtuosi e comunque in tutte le città le Olimpiadi hanno lasciato un segno forte permanente e di trasformazione grazie Pippo direi che sei stato perfettamente nei tempi una riflessione riguardo alle trasformazioni urbane e a quello che lasciano le infrastrutture dello sport, delle Olimpiadi una volta terminato l'evento allora e soprattutto per l'excursus partito dall'Italia e da Roma e toccando diverse parti del mondo passo ora la parola a Susanna Tradati architetto e partner dello studio Nemesi che rifletterà sul valore e il ruolo di un evento nella ridefinizione dell'immaginario di una grande città prego Susanna Buonasera a tutti grazie dell'invito la storia delle Olimpiadi è una storia di grandi competizioni competizioni che riguardano le performance atletiche ma che riguardano anche e soprattutto le visioni che gli atleti hanno avuto nei confronti del superamento dei loro limiti e di porre dei traguardi nuovi per il futuro così le città, le città olimpiche che hanno ospitato i giochi olimpici e i grandi eventi hanno costruito la loro visione di futuro da comunicare attraverso l'evento portando dei valori che potessero posizionarle all'interno del dibattito globale sul futuro appunto delle città questo dibattito è un po' come la volontà di costruire l'eco della città all'interno del mondo The Rumble in the Jungle diceva un grande atleta che è diventato anche un mito nella storia delle Olimpiadi Mohammed Ali che era un grandissimo atleta ma era anche un uomo che ha saputo valicare dei limiti attraverso le battaglie sociali che ha portato avanti in termini razziali e di quella che era la sua visione del mondo ecco, Mohammed Ali ha dimostrato come anche le città possono dimostrare che la storia si può cambiare si può cambiare attraverso il posizionamento del proprio sguardo verso il futuro Barcellona nel 1992 è stata una città che attraverso il rapporto col paesaggio la ricucitura della città storica col mare ha costruito la sua immagine contemporanea un'immagine fatta di cuciture tra tessuto storico consolidato e nuovi progetti e la contemporaneità anche attraverso il rapporto con lo spazio pubblico Pecchino invece è stato l'emblema di un posizionamento della Cina sullo scenario globale con la grande architettura contemporanea il grande contenitore di funzioni pubbliche che in maniera diffusa andava a rappresentare diciamo questo nuovo posizionamento globale e quindi come dire un valore politico dell'architettura Londra è stata invece attraverso le Olimpiadi del 2012 l'opportunità per traguardare una nuova visione della città lasciando un'eredità al futuro costruendo una nuova parte di città anche qui fortemente sostenibile integrata col paesaggio multifunzionale in cui ci fosse una nuova modalità di vita per i suoi cittadini Expo non è un'Olimpiade ma per l'Italia è stato un evento importantissimo in cui la forma Urbis ha saputo raccontare il mondo attraverso la disarticolazione di edifici che parlavano con il cardo, con il decumano, con l'urbanità e attraverso Expo, attraverso quello che oggi è l'area di Mind si è parlato anche di innovazione, di cambi, di paradigmi sociali, economici, di rivoluzione tecnologica di cui il nostro progetto per Palazzo Italia è stato in qualche modo il simbolo oggi sede della fondazione Human Technopole che ospita ricercatori da tutto il mondo quindi la città può ripartire anche dalla scienza e questa può essere la sua visione per il futuro oggi qui vedete l'immagine di Porta Romana, dello scalo di Porta Romana a Milano la grande sfida all'eredità di Expo è sicuramente Milano-Cortina 2026 quindi un sistema territoriale che cerca di raccontare o comunque di continuare il racconto della storia italiana dello stile di vita italiana ponendosi nuovi traguardi per il futuro l'interrogativo che pone invece Tokyo 2020 nell'epoca del Covid e quindi su quello che è il futuro della città post-Covid è la grande scommessa che dobbiamo porci e quindi l'interrogativo è qual è il posizionamento strategico delle città post-Covid cercando di lavorare e di immaginare qual è la qualità e la sostenibilità di vita per l'uomo quindi diciamo l'idea è quella di costruire delle risposte in termini programmatici per una città impatto positivo che possa fornire delle risposte concrete su quella che è la nostra visione della città del futuro per raccontare nuove storie lo facciamo attraverso anche la nostra esperienza e i nostri progetti in termini programmatici il primo punto della città impatto positivo l'abbiamo visto prima con Barcellona il rapporto tra la città e il paesaggio perché i confini delle città si allargano la città deve dialogare sempre di più col paesaggio il progetto al centro della trasformazione urbana si deve aprire al rapporto con lo spazio pubblico punto numero due della città impatto positivo il ruolo dell'architettura, dell'architettura contemporanea il grande contenitore di funzioni che deve parlare il linguaggio della contemporaneità e lasciare un segno di eredità futura che parla il linguaggio del presente questo diciamo è quello che un'Olimpiade, un grande evento oggi si deve porre come obiettivo l'altro aspetto molto dibattuto è la città in 15 minuti e quindi l'idea è quella di piccoli microsistemi urbani, multifunzionali fortemente integranti, lo spazio pubblico e il paesaggio che cercano di essere autonomi però in una logica di connessioni in cui le grandi infrastrutture, i sistemi di multimodalità cercano di tessere diciamo le relazioni di questo nuovo sistema ma anche la mobilità intelligente, la mobilità smart questo è il terzo punto programmatico dell'ascito che le città possono oggi traguardare verso il futuro e poi ancora ovviamente come dimenticare e tralasciare il tema della sostenibilità la sostenibilità oggi è al centro del piano di rilancio nazionale ma è anche al centro delle politiche del Green New Deal europeo dei 17 gol dell'agenda 2030 quindi i progetti oggi devono integrare la sostenibilità all'interno di una visione ampia e trasversale del progetto infine salute, sicurezza, benessere sono i presupposti che attraverso i progetti devono informare la città e dare delle risposte esaustive a quelli che sono i temi che i grandi cambiamenti di paradigma sociale, economico, politico e che ha riguardato anche il post-covid devono come dire essere affrontati ma parlare di città significa anche parlare di grandi visioni di visioni a lungo termine abbiamo parlato di Milano anche Roma merita delle visioni a lungo termine l'Italia è un paese che deve trasmettere la propria idea di città nel mondo che può diventare un modello a cui fare riferimento quindi inquadrare l'opportunità che il grande evento dà nella visione della città del futuro qui vediamo Parigi e il piano della Gran Paris del 2030 concepito in epoca Sarkozy significa immaginare una traiettoria di lungo termine qui parliamo del 2030 su quello che la città vuole essere e vuole diventare per i cittadini del futuro che parte da oggi e anche attraverso l'opportunità dei grandi eventi qui tra i tanti esempi una città invece orientale Shenzhen e il suo dialogo tra dimensione del disegno urbano occidentale e orientale in ogni contesto le città possono fornire risposte diverse a volte provocatori, a volte interessanti, a volte discutibili ma quello che conta è traguardare il futuro raccontando una storia che può diventare la nostra visione di quello che vogliamo per la sostenibilità e la qualità della vita che ci aspetta grazie e grazie a te Susanna per questa relazione importante anche la metafora legata al concetto di competizione quindi non solo atletica ma anche urbana e sociale è ora invece il turno di un altro professore nonché architetto il prorettore del Politecnico di Milano e direttore del Master in progettazione e gestione dello sport ecco a voi Emilio Faroldi i luoghi dello sport identificano nella storia delle civiltà un fondamentale elemento di manifestazione intellettuale in grado di trasmettere il significato che la cultura dello sport e del tempo libero rivestono nel rappresentare l'identità dei popoli una relazione tra le attività fisiche e la conseguente definizione degli spazi a essi dedicati nei contesti appunto antropizzati in altre parole il tema della giornata di oggi il rapporto città architettura e sport rappresenta il barometro dell'espressione culturale e dell'anima di una collettività lo sport primario elemento di infrastrutturazione urbana delinea l'ossatura del sistema territoriale rappresentando uno dei più efficaci collanti sociali endogeni all'organismo urbano vero e proprio motore, propulsore e ordinatore della città di ieri, di oggi e domani per le nuove regenerazioni lo sport non è esclusivamente un divertimento è una filosofia di vita lo sport veicola la dinamica evolutiva della città contemporanea per mezzo dei codici della solidarietà dell'innovazione, della conoscenza, tra valore dell'accoglienza e multidirezionalità di obiettivi tra ricchezza delle diversità e interpretazione del contesto ma lo sport esce dai volumi, dagli edifici dai manufatti architettonici per contaminare lo spazio pubblico della quotidianità il vero palazzetto dello sport non è quindi uno spazio confinato e definito è bensì la città con i suoi vuoti e i valori del passato nell'ambito di città e territori fermamente legati alla società che li vive e li frequenta quotidianamente l'infrastruttura sportiva va intesa quale prodotto urbano allargato, teso a favorire relazioni in grado di contribuire attivamente alla valorizzazione dei luoghi ma soprattutto delle persone l'ambito dell'architettura esprime fenomeni di trasformazione e insediamento di strutture multiscalari e sportive che assumono ruoli determinanti, primari, strategici nella configurazione dei contesti abitati nel tentativo di perseguire una rinnovata bellezza lo sport e il tempo libero personificano quel terzo spazio del nostro vivere complementare alla sfera privata e alla funzione lavorativa in grado di rigenerarsi fisicamente e civicamente in contesti diffusi connesso ad una nuova cultura del tempo in epoca postmoderna una valorizzazione di matrice spaziale e temporale che induce, promuove e favorisce una simultanea azione di rigenerazione sociale evidenziando come lo sport sia detentore di valori al contempo materiali e immateriali, fisici e virtuali a volte è lo sport a plasmare e supportare la struttura della città e dei suoi spazi ma altre è la città medesima a suggerire forme sportive innovative uniche, assolute, irripetibili per forma, materiali, cultura e tradizione lo sport riesce a rendere eccezionale il quotidiano e, specularmente, rende quotidiana l'eccezionalità dell'evento per mezzo dei suoi attori e dei teatri spontanei o artificiali atti ad ospitarlo in una logica sia codificata sia informale l'evento sportivo esige un profondo rinnovamento e un radicale disassamento di approccio a favore di una concezione di infrastruttura sportiva meno oggettuale e più nodale volta a stimolare energia, sostenibilità, positività territoriale iconicità di sostanza l'ideazione, la progettazione, la realizzazione della grande manifestazione offre l'occasione spesso unica di trasformazione e rivalutazione strategica dei ruoli definendo priorità e alimentando potenzialità sconfiggendo le contraddizioni dei campi di applicazione Juan Antonio Samaranch definì Sydney 2000 l'Olimpiadi migliore di sempre flessibilità, trasformabilità, adattabilità questi i paradigmi per un sistema organico di infrastrutture fisse e removibili architetture plasmate al tempo e all'evoluzione degli stili di vita il 13 agosto del 2004 iniziarono ad Atene i ventottesimi giochi olimpici moderni gran parte degli edifici delle strutture e degli spazi costruiti per ospitare i giochi sono oggi abbandonati e in rovina nessun piano di utilizzo post evento accompagnò tale processo di costruzione i giochi di Pechino del 2008 furono definiti i giochi della trasformazione urbana l'intervento sviluppò 37 strutture sportive delle quali solo 6 collocate fuori Pechino molte ancora oggi risultano attive e utilizzate ma altre versano in totale abbandono l'ex quartiere del gradato londinese Est Ind bonificato e riqualificato ha colto il villaggio olimpico nel 2012 Queen Elizabeth Park a conclusione dei giochi è stato trasformato e manutenuto in vita 11.000 case, 7.000 posti di lavoro di lavoro implementeranno il contesto nei prossimi anni definite dalla BBC imperfettamente perfette le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 16 identificano il manifesto delle criticità prima e dopo l'evento tra inquietudine, violenza, inquinamento tutti i problemi amplificatisi al termine della manifestazione Be better together for the planet and the people è il motto del concept di Tokyo 2020 evento mirato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ambiente, sostenibilità, accessibilità una sfida che parte prima dai giochi ma anche il suo punto topico il tema aperto, stimolante degli indistinti orizzonti è oggi la città che dovrà porsi come sistema attivo non come contenitore passivo di oggetti delegati a ospitare eventi eccezionati destinati a esaurirsi nell'ombra del tempo quindi non impianti sportivi per la città bensì sport come infrastruttura diffusa questa l'alchimia per il futuro Grazie Emilio per la tua riflessione sullo sport come rigeneratore urbano e sociale attrattore e attore per il futuro dunque ora passiamo al giornalista critico ed esperto del mercato dell'arte per classi NBC ed altre testate ma soprattutto esperto di Cina quindi ora lascio la parola a Giacomo Nicolella Maschietti prego Grazie, grazie mille per questo invito buonasera a tutti io non sono un architetto sono un giornalista e non sono un esperto di Cina però ho avuto la fortuna di andarci in Cina proprio tra l'altro nel 2008 ovvero l'anno delle Olimpiadi e allora ho voluto provare a selezionare una serie di momenti di ricordi per raccontare come effettivamente si è cambiata questa città Pechino proprio durante l'anno delle Olimpiadi quello che abbiamo visto prima era la città proibita questo è il palazzo d'estate dove gli imperatori andavano a cercare refrigerio la città proibita si chiama così perché era proibita effettivamente alle persone, alla gente Pechino è una città che ha una storia straordinaria è capitale della Cina da 800 anni ma in realtà ne ha 3.000 qui vediamo la grande muraglia dista circa due ore di autobus e fa molto freddo quando andate a visitarla perché come vedete è stata costruita esattamente sui crinali delle montagne ed è un'esperienza importante da visitare altrettanto autentici e questi sono rimasti sono gli utong sono i piccoli vicoli della Pechino della Pechino più autentica sono quelli che sono stati costruiti intorno al 700-800 sono piccoli, sono stretti, sono ciottolati alcune abitazioni hanno dei giardini al loro interno altre no sono quelle che a Milano chiameremmo case di ringhiera e qui li vediamo perfettamente integrati con tutto il cambiamento che ha avuto questa metropoli pensate che sono circa 25 milioni di abitanti con l'Interland 30 milioni è grande come metà del Belgio solo che c'è il doppio della popolazione questa è la foto più iconica ho messo piazza Tiananmen perché è la sesta piazza più grande del mondo 440.000 metri quadrati questo è il rivoltoso sconosciuto una foto importante perché ce ne sono poche versioni che sono riuscite a sopravvivere ai servizi segreti cinesi questa è quella di Associated Press l'hanno dovuta scattare da lontanissimo parliamo di 800 metri con un moltiplicatore focale e racconta ovviamente le proteste del 1989 questa è la facciata di uno dei tanti musei che si possono andare a visitare a Pechino e tanti altri ne stanno nascendo sul nido non spendo tante parole perché l'hanno già presentato molto meglio di me diversi colleghi quello che mi interessa è ricordare come Ai Weiwei abbia voluto partecipare a questo progetto e quando parliamo di Ai Weiwei parliamo dell'artista forse più celebre, contemporaneo, cinese attualmente in tutto il mondo questo è il 798 il 798 era una zona dove gli artisti avevano i loro studi era una zona anche aspra deregolamentata negli anni 90 poi dopo il governo nel 2003 ne ha preso perfettamente il controllo e l'ha reso una sorta di centro commerciale a cielo aperto che però ha ancora comunque il suo significato ci sono è bellissimo ci sono un sacco di gallerie d'arte ci sono fondazioni ci sono negozi è stato occidentalizzato moltissimo ecco ed è tutto molto controllato al suo interno c'è anche una bella galleria d'arte italiana è questa è la continua di San Gimignano che fa esposizioni non solo ovviamente di artisti cinesi ma anche di artisti italiani loro hanno tante sedi a San Gimignano ovviamente a Parigi a Lavana e diciamo hanno messo una bandierina è bello citarli perché sono tra i pochi italiani che sono riusciti ad aprire un business culturale fiorente in una città che vanta circa ci sono 145 persone che hanno la residenza a Pechino miliardari in dollari USA fanno parte dei 1058 miliardari cinesi quindi sono il doppio degli americani voi capite che l'espansione economica di questa città è incredibile questa è un'opera di Ai Weiwei ho voluto selezionare proprio questa non tanto perché lui è stato in un campo di lavoro dal 1961 per quattro anni con tutta la sua famiglia perché suo padre era considerato di destra questo invece è un artista importante che si chiama scusatemi Xiang Jing non volevo pronunciare bene il nome ed è importante è significativo il fatto che sia una donna perché sono pochissime ovviamente le artiste donne e sono artiste che hanno dovuto scegliere di non avere figli per portare avanti la loro carriera questo è Zhao Wu Qi questo è l'artista cinese più importante del Novecento è un artista che ha mosso nel 2019 sul mercato circa 200 milioni di dollari con le movimentazioni delle sue opere è un artista questo è un artista che fa parte del ponte tra Oriente e Occidente perché ha vissuto tantissimo a Parigi però d'altronde ci coniuga la calligrafia cinese l'antica tradizione con l'espressionismo astratto con lo stile più occidentale questo è Zhang Wang queste sono le mask series c'è una bella frase se la trovo che ho letto di Zhang Wang proprio in merito Zenfanzi in merito a queste opere la Cina stava cambiando negli anni 90 le persone indossavano giacche e cravate ma si sentivano a disagio indossavano delle maschere un altro Liu Bolin l'uomo invisibile non lo vedete forse ma all'interno di questa fotografia c'è lui completamente dipinto che si confonde nello sfondo anche lui un artista rifiutato anche lui ha dovuto gli hanno chiuso lo studio come a tantissimi altri successi questo signore invece è l'ambasciatore svizzero Uli Sieg è stato uno dei un altro dei grandi traghettatori tra Oriente e Occidente prima commerciava con la Cina e poi dopo invece è diventato ambasciatore per la Svizzera ha creato una grandissima collezione di opere d'arte che è stata aperta adesso a Hong Kong in un museo di 2500 lavori e questa niente è un'immagine della città proibita che ho voluto includere per chiudere per ricordarci che i 24esimi giochi olimpici invernali dal 4 al 20 febbraio dal 22 si terranno proprio a Pechino questo era il mio primo e ultimo credo Pecciacuccia grazie Giacomo per il tuo racconto soprattutto ti sei direi sei molto modesto a dire non essere un esperto di Cina perché ci hai dato delle preziosi informazioni per quanto riguarda l'arte cinese partendo dalla città proibita fino alle opere più moderne quindi direi che è arrivato il momento di presentare e passare la parola a Beatrice Bertini curatrice d'arte di Ex Elettrofonica e del progetto Mirabilia che insieme a Benedetta Arciari sarà in programma alle prossime Olimpiadi di Tokyo sì buonasera a tutti Mirabilia è un progetto fatto per il CONI ed è un progetto in realtà di comunicazione attraverso l'arte contemporanea è da qualche anno ormai che il CONI decide di fare dei progetti di comunicazione che non vengono solamente mediati dallo sport e dagli eventi ma vengono mediati dall'arte quindi il nostro progetto di comunicazione per Casa Italia Tokyo si apre con l'Arazzo realizzato con bottiglie di plastica riciclata da Bonotto il tricolore inscrive in oro la struttura della tipica casa giapponese la nostra bandiera che è stata esposta quest'anno da tutto il mondo noi la riproponiamo a Tokyo in segno di ringraziamento con il progetto vogliamo sottolineare il rapporto di reciproca meraviglia che esiste tra l'Italia e il Giappone come evidenzia il lavoro di Ornaghi e Prestinari con questa scultura a fiorare composta da una pressa tipografica che fa nascere un origami di carta la meraviglia dunque è il cortocircuito la sorpresa spesso generata da forme di origine naturale che si somigliano come nell'opera di Alessandro Piangiamore che mette in relazione il corallo con il vulcano vulcano geologicamente da cui sia il nostro territorio sia il territorio giapponese hanno origine gli eroi di Giuseppe Gallo sono dodici sculture dove tronchi d'albero si trasformano in sedie mastodontiche qui il concetto di meraviglia risiede nella verifica che ogni invenzione umana la sedia è una delle più brillanti è generata dalla natura e risponde alle sue regole per realizzare invece queste opere Luca Trevisani sottrae alla natura una foglia di banano su cui imprime un disegno colorato l'ispirazione di portare elementi naturali naturalia ed elementi artificiali artificialia è presa dalle Wunderkammer che si svilupparono nel 1600 e queste discipline queste cose stavano insieme senza nessuna gerarchia qui abbiamo una fotografia questa fotografia ha viaggiato nel 1900 dall'Italia al Giappone anzi dal Giappone scusatemi all'Italia è stata presa da una delle prime spedizioni giapponesi e questa volta noi la riportiamo a Tokyo in segno naturalmente di fratellanza questa è Elisa Sigicelli Elisa Sigicelli è un'artista che finge con la fotografia con l'inganno che ci troviamo di fronte ad una vera vetrata in realtà sono dei teli di raso stampati con l'arte dunque si cerca di indagare gli aspetti più misteriosi della natura come il sogno ad esempio la scultura di Matteo Nasini è una porcellana realizzata con una stampante 3D che realizza questa forma processando le onde cerebrali di una persona dormiente in questo modo possiamo toccare e vedere la forma di un sogno Mirabilia non è solo un progetto dedicato alla natura come fonte di veraviglia ma cerca di sensibilizzare il fruitore a preservarla con le intenzioni e i fatti come dice la scultura di Loris Cecchini citando Sartre ogni parola ha conseguenze ogni silenzio anche che non a caso campeggia su una montagna rovesciata i paesaggi irreali e fumosi di Goldsmith e Chiari insistono sul tema dell'inquinamento e ci includono in questa riflessione sul paesaggio irreale di cui facciamo esperienza perché sono degli specchi il paesaggio sintetico non è una fantasia da cui noi siamo esclusi la seconda opera che vedremo di Goldsmith e Chiari è ancora più letterale un paesaggio lacustre che cita evidentemente le ninfè di Monet è ad uno sguardo più attento infestato di buste di plastica colorate la volontà del progetto di interpretare la meraviglia come sentimento necessario per l'uomo per dare origine al pensiero e quindi intenderlo in una logica antispettacolare è evidente nella scelta dell'opera Il mare di Adelaide Cioni basta un simbolo essenziale per evocare un'emozione senza usare necessariamente fuochi di artificio o tecnologie le meraviglia può risiedere nel momento in cui si prende consapevolezza dell'esserci l'opera di Alberto Garutti tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui ora è dedicata agli sportivi e alla somma dei loro sforzi delle vittorie e delle sconfitte che li hanno condotti al gradino più alto che si può immaginare ma anche a tutti i visitatori chiamati a meravigliarsi del dono di essere qui ora nelle prossime slide vedremo una carrellata di opere presenti in mostra degli artisti Loris Cecchini Giuseppe De Mattia Elena Mazzi Flavio Favelli e i bozzetti preparatori degli arazzi di Bonotto presenti nella casa le immagini ci aiuteranno a leggere l'opera poetica di Henry De Luca Considero Valore che sarà presente con un audio a Casa Italia noi la consideriamo il palinsesto della mostra Considero Valore ogni forma di vita la neve la fragola la mosca Considero Valore il regno minerale l'assemblea delle stelle Considero Valore il vino finché dura il pasto un sorriso involontario la stanchezza di che non si è risparmiato due vecchi che si amano Considero Valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco Considero Valore tutte le ferite Considero Valore risparmiare acqua riparare un paio di scarpe tacere in tempo accorrere a un grido chiedere permesso prima di sedersi provare gratitudine senza ricordare di che Considero Valore sapere in una stanza dov'è il nord qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato Considero Valore il viaggio del vagabondo la clausura della monaca la pazienza del condannato qualunque colpa sia Considero Valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore molti di questi valori non ho conosciuto opere sull'acqua e altre poesie di Henry De Luca la vera meraviglia infine sono proprio le olimpiadi l'idea e la passione che ogni quattro anni le rende possibili e ancora di più quest'anno che le olimpiadi saranno simbolo assoluto di unità e di ripartenza ci auguriamo che questo corredo simbolico possa celebrare questa magia grazie grazie Beatrice direi quale modo migliore per concludere questa carrellata di peciacuccia e di presentazioni diciamo condense di significato allora ringrazio ancora Beatrice per il suo viaggio nella comunicazione dell'arte e soprattutto per averci anticipato le meraviglie che saranno condivisibili e visibili a Tokyo dunque ora quanti punti di vista e quante prospettive sono emerse durante le le rappresentazioni mi congratulo con tutti per la capacità di sintesi e per aver accolto a pieno direi lo spirito del peciacuccia dunque è ora il momento ci avviciniamo alla fase della interazione diretta con il nostro pubblico vi ricordo le modalità dunque per diamo un attimo i tempi tecnici anche alla regia per settare diciamo il palco e poter accogliere i nostri ospiti dicevo le modalità sono molto chiare si può intanto potete accomodarvi faccio prego i relatori venite pure sul palco dunque dicevo le modalità sono molto semplici si può mandare un messaggio sia per iscritto sia attraverso un messaggio vocale il numero ve lo ripeto nel caso in cui ci fossero dei problemi allora scusatemi eccoci perfetto direi che ci siamo allora io scusate il numero ecco 375 5474460 ma ora direi che siamo pronti possiamo entrare nel vivo delle domande ma io direi partiamo con una domanda ecco che arriva perfetto dunque professor Faroldi partiamo dalla fine così mi avvicino così possiamo parlarci vicinamente vicinamente allora qual è la situazione questa è una domanda che ci fa Alice da Pavia dunque qual è la situazione delle infrastrutture sportive in Italia ad oggi considerato appunto il suo studio e il master il corso che lei dirige quale la loro criticità le criticità sono diverse direi in termini di gerarchia l'età la non corrispondenza alle istanze di una rinnovata società che ha esigenze differenti e non incontrare oggi dei programmi economici e sociali adeguati il primo dato è legato all'obsolescenza alla carta d'identità delle nostre strutture circa 60 70 anni la media di nascita delle infrastrutture sportive in particolar modo degli stadi che hanno vissuto ovviamente negli anni 20 e 30 l'epopea e la grande stagione ma che poi negli anni hanno tradito questo connubio tra città e infrastruttura sportiva divenendo monumenti spesso abbandonati per quanto riguarda la questione invece della formazione anche dei nostri progettisti c'è sempre stata una attenzione scarsa al modello italiano l'Italia è un contesto originale inviterei coloro che si avvicinano alla rigenerazione allo studio delle infrastrutture nel nostro contesto di non mutuare in modo asettico i modelli internazionali ma cercare un modello italiano perfetto quindi si è parlato la ringrazio di futuro di progettualità ora andrei dal primo dei nostri relatori il professor Ciorra dunque lei ha parlato molto di futuro quindi di progetti fatti pensando al futuro per lasciare qualcosa in positivo di costruttivo quindi se dovessi chiederle ora come si immagina la città del futuro soprattutto ecco questa è una domanda invece di Filippo di Milano quindi prego ma vorrei non vorrei deludere la città del futuro sarà molto simile a quella di adesso però crescerà il peso di una serie di cose che magari non si vedono infrastrutture digitali tutta questa tutta la mitologia dello smart che a volte mi fa appassionare più per le dump cities che per le smart cities però ecco la città cambierà non tanto nelle forme esterne quanto nel modo in cui i dati circolano le persone si relazionano la comunicazione va tra l'individuo la collettività la governance questo è diciamo il grande tema che è un tema anche delicato pericoloso complesso ma certo avremo città con più sostenibilità come diciamo tutti avremo più dispositivi avremo forse meno automobili private spero meno automobili che usano il petrolio però ecco il vero cambiamento è nella zona immateriale cioè nello spazio immateriale in cui circolano le informazioni i rapporti le relazioni perfetto quindi grazie grazie infinite ora ho una domanda invece per Beatrice Bertini da parte di Eleonora di Bologna dunque si è parlato mi ricollego anche al concetto di comunicazioni veloci quindi di tecnologie nel suo caso si è parlato di comunicazione nell'arte soprattutto parlando di Italia e di Giappone quindi due paesi molto lontani con culture differenti come può lo sport diciamo fare da elemento di unione tra queste due realtà e l'arte come può inserirsi in questo progetto diciamo che secondo me l'arte è stata fatta fuori diciamo nelle questioni olimpiche e invece c'era sempre stata diciamo l'arte era necessaria a eternare il gesto olimpico perché il gesto sportivo è un gesto transitorio mentre l'arte fissava quel momento e lo rendeva eterno quindi noi non stiamo facendo niente di originale stiamo riannodando un filo che è necessario ovviamente con delle opere che sono quelle contemporanee non c'è più la necessità di fare il discobolo di Mirone stiamo cercando delle altre forme di rappresentazione di quello che andiamo a fare in un paese la prima cosa che noi ci domandiamo quando andiamo a fare queste case ospitalità e quando facciamo questi progetti di comunicazione attraverso l'arte è di ringraziare il paese che ci ospita perché il paese che ci ospita si grava per sopportare le olimpiadi non solo a livello di costi ma proprio cura la sua e i giapponesi ancora di più questa ospitalità e noi necessariamente dobbiamo andare lì e curare questo rapporto che è la cosa più importante nelle olimpiadi gli atleti si incontrano è un rapporto quindi si deve curare come prima cosa questo rapporto perfetto grazie Beatrice ora abbiamo un messaggio vocale da Gabriele da Milano prego ascoltiamolo sì buongiorno io volevo chiedere che cosa voleva comunicare Giacomo Nicoletta Maschietti con la foto del dito medio alzato grazie dito alzato dito alzato sì esatto per Giacomo prego beh allora quella è una delle tante provocazioni che ha fatto Ai Weiwei nella sua nella sua carriera io credo che lui ma anche tutti gli altri artisti che sono nati negli anni 50 60 che sono cresciuti artisticamente nel 798 che appunto era questa zona di Pechino dove c'erano gli studi gli studi un po' di contrabbando un po' perché non si poteva il governo non voleva insomma hanno il fil rouge che lega tutti questi artisti è la ricerca della libertà ed è una libertà che non hanno ancora ottenuto neanche adesso io quando sono stato a Pechino nel 2008 Ai Weiwei in quel momento era in una località sconosciuta preso dal governo cinese in detenzione poi dopo è stato liberato mi ricordo che alla Biennale davano dei fiori per liberare Ai Weiwei Liubolin ha avuto problemi analoghi insomma diciamo che fare l'artista in Cina ancora oggi non è così semplice e quindi lui che è il gran maestro della provocazione evidentemente diciamo ha un messaggio particolarmente netto per il suo governo perfetto allora eccomi Susanna invece vengo da te con una domanda di Anna da Pavia dunque tu hai parlato di sicurezza in questo ultimo periodo direi che il tema della sicurezza soprattutto della salute è centrale nelle nostre giornate quindi i grandi eventi sportivi portano condivisione di spazi portano vicinanza quindi come ripensare un luogo dove poter vivere un momento sportivo una grande architettura dedicata allo sport in chiave di sicurezza e ai tempi nostri diciamo questo è un grande tema che si sta dibattendo oggi per esempio a Tokyo recentemente prima di aver quasi deciso di sospendere la competizione hanno poi deciso di eliminare i visitatori internazionali e c'è ancora in corso il dibattito sul fatto di far partecipare o meno i visitatori locali quindi in realtà se parliamo di sicurezza legata ai grandi eventi anche nell'epoca post-covid ci sono tanti interrogativi su cui si sta cercando di dare delle risposte che nella logica specifica dei grandi eventi ancora non hanno trovato delle precise soluzioni però diciamo quello che è importante cercare di coniugare il tema della sicurezza con si parlava di libertà prima ecco non possono essere solo le regole i vincoli a delimitare il nostro modo di vivere perché perdendo la libertà perdiamo proprio la capacità di immaginare il futuro quindi la sicurezza deve essere parte di un ragionamento allargato attraverso il quale cerchiamo di costruire delle risposte sul nostro futuro che siano vivibili che portino ad un miglioramento delle qualità delle nostre vite e non ci costringano nella paura quindi l'augurio è quello di trovare delle soluzioni che mettano insieme libertà e sicurezza perfetto grazie allora torno di nuovo un attimo da Giacomo abbiamo una domanda più tecnica diciamo sul mercato dell'arte da parte di Nicola da Torino dunque considerato un grande evento sportivo per l'arte ci può essere un aumento di valore quantificabile dopo un periodo intenso come quello delle Olimpiadi cioè l'arte del paese può avere un suo rilancio grazie alle Olimpiadi? Sì ma per motivi prettamente economici nel senso che la crescita economica della Cina negli ultimi 20 anni è esponenziale di anno in anno solo adesso hanno avuto dei problemi con la pandemia e comunque sono coloro che hanno tenuto in piedi mi viene da dire l'industria del fashion da soli praticamente e non solo nel 2020 sull'arte loro non sono stati molto trasparenti negli anni perché non ci sono bilanci pubblici per le vendite all'asta con le vendite private anche è difficile però sicuramente loro hanno tantissimi stiamo parlando di mille persone miliardari in dollari in Cina di cui 145 residenti a Pechino sono il doppio degli americani gli americani sono 500 nella famosa lista di Forbes e stiamo parlando di persone che hanno disponibilità di mille miliardi almeno cioè quindi loro le aste di Hong Kong che sono tax free ovviamente sono ampiamente praticate e non comprano solamente arte cinese comprano anche arte occidentale arte di tutti i tipi insomma come investimento tornando alla domanda le olimpiadi aiutano certo come tutti gli eventi in cui viene riqualificata una società circola più denaro per cui sì certo è come l'expo certo grazie sì è un grande evento quindi comunque accoglie interessi persone e movimento quindi sicuramente un feedback positivo allora abbiamo una domanda da Riccardo da Milano riprendo un attimo le file abbiamo parlato di inquinamento molto sia per quanto riguarda anche le meraviglie di Tokyo ma in questo caso torniamo a Milano per parlare del master che ha colpito evidentemente molto il master in progettazione e gestione dello sport e del politecnico quindi parlando di sostenibilità di inquinamento ci sono quali sono i nuovi trend in ottica di sostenibilità per le infrastrutture sportive si parla di nuovi materiali o di nuove logiche lo sport è cultura e soprattutto l'architettura è un ambito didattico l'architettura fa didattica quindi una buona infrastruttura sportiva come una buona architettura trasmette dei valori anche lo sport e l'architettura dello sport deve trasmettere questi valori per cui i concetti di salute benessere di utilizzo colto del tempo libero di una valorizzazione della persona come frequentante luoghi che condivide e rende con essi una empatia e un'emozione è oggetto della progettazione delle infrastrutture sportive ecco allora che il recupero delle acque piovane il fatto che forse in città sia la struttura parlo degli stadi con una maggiore estensione orizzontale rispetto ad altre potenzialità nei media building addirittura le infrastrutture sportive comunicano e sono esse stesse dei trasmettitori di valori ecco allora che l'architettura dello sport può a sua volta non solo contenere ma farsi leggere e quindi essere lei stessa espressione di un valore che è appunto lo sport perfetto allora Pippo Ciorra con l'ultima domanda si è da parte di Veronica da Milano sempre allora dunque si è parlato anche di passato di possibili occasioni perse quindi di grandi infrastrutture che poi hanno avuto un'ombra negativa come si può fare per riqualificare quei grandi spazi ah beh è un bellissimo tema noi siamo dei grandi amanti del riciclo del lavorare non sempre c'è bisogno di costruire cose nuove ci piace moltissimo se uno va a Shanghai almeno qualche anno fa Shanghai c'era ancora questo cimitero dell'Expo che era particolarmente interessante ce ne sono tanti in giro per il mondo io credo che come hanno fatto abbastanza bene a Milano con l'Expo tutto ciò che è costruito è buono cioè tutto ciò che è costruito può essere utilizzato riciclato rimesso in circolo in mille modi poi qualcosa la demoliremo ma sostanzialmente penso che una io farei un bel piano di riqualificazione di tutta l'Italia costruita per esempio perché c'è un sacco di metri quadri e cubi interessanti che i nostri giovani architetti saprebbero far diventare particolarmente attraenti perfetto allora vi ringrazio tutti prima di tutto per lo sforzo di sintesi fatto durante il Pecciacuce per aver sintetizzato concetti così profondi e vi ringrazio anche per aver condiviso con il nostro pubblico questo momento di interazione diretta e con se vogliamo anche dei piccoli inconvenienti della diretta ma diciamo che ci dà un pizzico in più allora direi che ancora vi ringrazio ringrazio il nostro pubblico e vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale YouTube Allianz Experience dove potrete rivedere tutti gli eventi realizzati da Allianz fino ad oggi e dove potrete anche rivedere questa puntata di Allianz Pecciacuccia grazie per averci seguito e buon proseguimento grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito le assicurazioni le assicurazioni sono per chi gioca sul sicuro noi in Allianz non siamo d'accordo da quando Allianz è nata nel 1890 siamo sempre stati dalla parte di chi va oltre le frontiere gli oceani i continenti siamo con chissà che senza coraggio non esiste successo né divertimento né vita siamo a fianco di chi ha il coraggio di iniziare un'attività o di creare una nuova famiglia siamo con chi sa crescere con la fatalità con la sconfitta ancora più che con il successo condividiamo i loro trionfi e i loro drammi perché siamo nati proprio per questo diamo protezione e sicurezza perché la nostra azienda è solida forte è costruita per affrontare e superare le difficoltà sappiamo cosa fare e indichiamo la direzione perché capiamo il mondo conosciamo le vite e i bisogni dei nostri clienti agiamo con integrità parliamo sinceramente e manteniamo le promesse tutte le nostre azioni vogliono incoraggiarti a prendere in mano la tua vita vai avanti con coraggio noi siamo con te